Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana. Questi i reati contestati a 11 soggetti fermati dai carabinieri della compagnia di Soverato, che hanno operato in tre distinte operazioni, che hanno interessato i comuni di Guardavalle, Isca sullo Ionio, Monte Paone, Gasperina e Montauro, nella provincia di Catanzaro, Monasterace, nella provincia di Reggio Calabria, Serra San Bruno, nel Vibonese, Mugnano di Napoli, in Campania, Torino e Bordighera, sul litorale imperiese. Degli 11 soggetti interessati all'operazione, 4 sono finiti in carcere, altri 4 ai domiciliari e, per gli indagati minorenni, due da collocare presso comunità ministeriali per i minorenni e uno presso l'istituto penale per i minorenni di Catanzaro. Tutti insieme avevano organizzato un traffico di stupefacenti, del tipo Mariuane Ascic, in piazze di spaccio, in luoghi pubblici dei comuni del Soveratese, canali di approvvigionamento dello stupefacente in Guardavalle e Serra San Bruno e luoghi di occultamento collocati in 4 depositi, siti in Isca sullo Ionio, Petrizi, Serra San Bruno e Monte Paone. L'indagine è stata avviata a seguito di una perquisizione veicolare, eseguita il 1 gennaio 2022, nel parcheggio di un centro commerciale di Monte Paone, a carico di due soggetti, trovati in possesso di 840 euro e di 5 grammi di marijuana, e si è sviluppata con l'ausilio di attività tecniche, la cui attività di riscontro ha consentito di procedere all'arresto in flagranza di reato di 4 soggetti, al sequestro di 148 kg di marijuana e 2,9 kg di hashish, e di registrare momenti di tensione connessi all'ammanco di sostanza stupefacente e agli adempimenti relativi alla consegna dei proventi della cessione dello stupefacente.